Sempre più persone si rivolgono ai CAF per ottenere informazioni sul reddito di cittadinanza e scoprire se ci sia la possibilità di rientrare tra i beneficiari. Accade naturalmente anche nel Bellunese con numerosi volti nuovi negli uffici dei patronati. Non tutti però sanno che esiste anche una misura simile al reddito di cittadinanza, ovvero la pensione di cittadinanza. Il requisito importante per quanto riguarda questa pensione di cittadinanza è il fatto che nella famiglia tutti i componenti devono avere 67 anni di età compiuti. I requisiti poi alla fine, quelli reddituali, immobiliari o patrimoniali, sono gli stessi che si riferiscono per il reddito di cittadinanza e pertanto è possibile che alcune persone che hanno pensioni proprio basse, minime, possano essere dei potenziali beneficiari di questo. L'importante è informarsi anche perché si potrebbe scoprire di avere diritto anche ad altre misure pensate per i pensionati. Così invitiamo davvero tutti coloro che hanno una pensione bassa a passare nei nostri uffici, nelle sedi dello SPI e anche nei recapiti proprio per poter valutare se c'è la possibilità comunque di accedere. A livello generale la richiesta di CGL è quella di non dissipare l'esperienza maturata con il reddito di inclusione che aveva nei comuni e nei servizi sociali il proprio osservatorio privilegiato. In verità noi crediamo che appunto il pezzo del REI, cioè del REI to Inclusioni stipulato dal precedente governo fosse un'esperienza positiva, lo si è dimostrato nei dati veneti, e che questa esperienza che aveva, come dire, una lotta alla povertà complessiva, non solamente alla povertà da lavoro, deve essere mantenuta e in qualche maniera deve integrarsi dentro il reddito di cittadinanza. Quindi con questo aspiccio nei prossimi giorni faremo in modo che il governo recepisca questo nostro indirizzo. Grazie.